Ognuno di questi capannoni contiene circa 32.000 polli e questi polli mangiano circa 5.000 kg di mancime. Decidono questo in modo matematico. A me non importa cosa dice la gente della Baia, vado controcorrente, ma tutti i nostri figli sono cresciuti bene nelle acque della Baia, perciò non capisco tutte queste previsioni pessimistiche. 20 milioni di chili di escrementi di pollo vengono riversati nella Baia ogni anno. Guardate che roba, sono tutti escrementi di pollo. E guardate qui, siamo molto vicini all'acqua. È proprio lì. Escrementi di pollo, acqua.